Ragazzi rieccoci con Dragon Boss Parking Zero per un'analisi dell'ultimo trailer, il trailer che è stato veramente molto figo Ho già letto però diverse critiche, diversi dubbi, ma adesso ragazzi con calma riguardiamo questo trailer con un sottotitolo italiano E con voci in giapponese, quindi riguardiamo questo trailer fantastico E vediamo, vediamo, vediamo ragazzi, c'è da analizzare un po', c'è da parlare un po' di diverse cosucce E lo faremo subito, ma prima rivediamo questo fantastico trailer secondo me perché è veramente bellissimo Eccolo qui Goku Ko' Zaru, bellissimo Gli attacchi sono veramente molto molto belli, creano proprio un bel effetto, gli scenari che è tutto molto figo Seppur con alcune sbavature, ma adesso ci arriviamo Bellissimo che il Vegeta, fantastico Ah, questo Super Saiyan 3, mamma mia ragazzi Che goduria, ma anche Majin Vegeta, wow Trasformazione Ci passano E la sua parte di Super E poi le altre sono pure di Z Bello ragazzi, molto bello E poi c'è questo roster che già ha ricevuto diverse critiche E purtroppo però non abbiamo ancora una data Ma comunque ragazzi, ripartiamo dall'inizio Mutiamo il trailer, adesso vediamo un po' di parlare di alcune cose, alcuni dettagli Partiamo, partiamo, partiamo dall'inizio Da questo Goku Che come potete vedere ragazzi Parte con la classica cosa che vediamo anche nella serie Budokai Tenkachi Con l'inizio appunto dei personaggi Nelle loro classiche pose Quindi questo viene ripreso E lo stesso vale anche per Vegeta Una cosa che però ho notato ragazzi È che secondo me c'è qualche problema di illuminazione Perché io vedo un Goku troppo pallido I vestiti troppo accesi C'è questo arancione chiaro praticamente Che è un po' troppo Il vestito di Goku dovrebbe essere un arancione un po' più scuro E qui mi sembra troppo, troppo, troppo acceso Quindi, vabbè, niente di grave È roba che si può sistemare Ma che ci fa capire Che il gioco non è ancora Non è ancora terminato Insomma, lo sviluppo è ancora in corso Non è questo il risultato definitivo ragazzi Ricordatelo perché è importante Anche vedete ragazzi Stesso problema per quanto riguarda un po' i colori Ma, ripeto, nulla di grave Nulla che non si possa risolvere E poi qui ragazzi Allora, qui parte il combattimento Vorrei farvi notare un piccolo errore Se riusciamo a fermare il video in tempo Che mi ha fatto molto ridere Veramente molto ridere Allora, dovrebbe essere qui Eccolo qua Aspetta, aspetta, aspetta Eccolo qui ragazzi Bellissimo questo bug Di Goku che perde i capelli Insomma, è un bug che fa ridere Ma che possono sistemare Che, ripeto ancora una volta Ci mostra che il gioco non è ancora completato per nulla E forse potrebbe volerci un po' più di quello che ci immaginiamo Ma forse 2024 potrebbero non farcela Ma non è detto ragazzi Perché siamo ancora agli inizi Siamo ancora a gennaio Quindi c'è tutto il tempo Però, insomma Errore che chiaramente va assolutamente sistemato Ma immagino che lo faranno In generale però ragazzi Mi piace molto il gameplay Come si presenta Soprattutto il modo in cui Gli attacchi vengono sferrati Rendono bene Rendono bene anche l'impatto Con lo scenario È molto molto figo Vedete questa roccia Che si distrugge in mille pezzi Poi qui abbiamo Un Goku Kaioken Forse un po' troppo magrolino Rispetto a quello che dovrebbe essere Goku Kaioken Tutto bello pompato e gonfio Ma forse questa è la prima versione del Kaioken Non è ancora la versione per 3 Per 4 Per 20 Insomma, tutte quelle versioni che ci sono Quindi, vabbè Anche questo ci potrebbe anche stare E va bene Qui vediamo l'attacco Meteore se non sbaglio Quindi anche questo ripreso Dalla sete in Kachi E da tante altre Perché poi questo attacco Goku lo fa veramente In tantissimi giochi Poi qui Abbiamo il ritorno Della scimmia Dello Zaru Giocabile E molti E qui ho letto dei commenti Di qualcuno che diceva Vabbè ma qui ci emozioniamo Per robe che c'erano già Per robe vecchie Ma Il bello è questo Cioè La cosa interessante È vedere vecchie meccaniche Vecchie caratteristiche Di Budokete in Kachi Riprese In un gioco moderno però Perché è lì la differenza ragazzi Perché comunque Poi padda alla mano Sarà diverso È lì Che sta il bello È lì che uno si emoziona Perché vediamo Delle cose che sì C'erano già prima Ma che sono fatte Con le tecnologie di oggi Ed è lì che sta la differenza Non è che mi sto emozionando Per una cosa vecchia Di per sé È diverso ragazzi È diverso Non è Non è come alcuni di voi dicono È un attimino diverso Quindi Si potrà rigiocare con Iozzaro Speriamo non solo Con Vegeta e molti altri Ma chiaramente Immagino di sì E poi ragazzi Come potete vedere Vedete in generale La resa È molto bella Con gli scenari Gli attacchi Rende molto molto bene Qui abbiamo la trasformazione Di Goku Che secondo me È cambiata Rispetto a quella Che abbiamo visto Nel primo teaser Ci sono dei cambiamenti Nell'inquadratura Negli effetti particellari Insomma È tutto Un po' cambiato Si sta evolvendo ragazzi Si sta evolvendo Perché chiaramente Lo sviluppo va avanti Anche queste inquadrature Un po' stile anime Manga Poi ragazzi C'è qualche sbavatura C'è anche qualche sbavatura A livello di Di personaggi Insomma di modelli Anche qui vediamo Non lo so Un Goku Che mi sembra Un po' così così Dal punto di vista Anche del piede Che forse Non è perfettamente Bilanciato Nelle misure Rispetto magari Alla gamba Il pantalone Ma comunque Parliamo Di momenti In cui I personaggi Vanno veramente Molto veloci E che comunque Alla fine rendono Alla fine rendono Nonostante magari Qualche difetto ci sia Poi possiamo Notare questo Super Saiyan In versione Prima versione Praticamente Con questo giallo Un po' sbiadito Non forte Come magari Lo vediamo un po' di più Nelle versioni successive Con Super Saiyan 2 e 3 Quindi questo ci dimostra Che avremo diverse versioni Di Goku Versione iniziale Metà Fine Insomma come c'era anche Nella serie Budokka Tenkaichi Qui abbiamo un Super Vegeta Veramente fichissimo Qui ragazzi Veramente fichissimo Quando fanno questi primi piani I personaggi Danno il meglio Danno il meglio Che è veramente bellissimo Vegeta Mamma mia Veramente una bomba E non gli si può dire nulla E qui passiamo Al Super Saiyan 2 E' bello ragazzi Sono veramente bei modelli Rispetto a Xenoverse 2 Per dire che Secondo me E' abbastanza Tutto plastico Cosa qui invece Tutto si unisce benissimo Tra scenari e personaggi Sono Super Saiyan 3 ragazzi E' di una bellezza Inaudita Veramente molto 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 figo Molto figo Bello 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 Anche questo Machin Vegeta Ci sta E poi questo attacco Qui ho sbagliato Sbagliato completamente Le misure Vedete come Il vestito di Goku E' estremamente largo Rispetto al braccio Sbagliato ragazzi Qui è completamente sbagliato Va sistemato assolutamente Si anche qui Anche qui durante il combattimento Questo Goku Super Saiyan God C'ha qualche problema Di misure ragazzi E in generale Mi sembra che Goku Sia un po' Un po' magro Rispetto a quello Che dovrebbe essere Un po' Il suo fisico Ma Questo Potrebbe essere Devuto al fatto Che abbiamo Diversi Diversi Goku Quindi potrebbe essere Per quello Comunque Ecco qui Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Trasformazione Che mi sembra Diversa Come animazione Rispetto a quella Vista nel primo teaser E forse anche A quella che abbiamo visto Nel teaser Del mese scorso Quindi Anche questo Dimostra ulteriormente Che ci stanno ancora Lavorando E lo stanno evolvendo E poi qui giungiamo Beh Alla parte finale Dove vediamo Insomma Una carrellata Di vari Goku E vari Vegeta Ma adesso Arriviamo Al roster Al tanto Criticato roster Partiamo col dire Che questo non è il roster Che vedremo nel gameplay Cioè nel gioco Non è questo Non lo presenteranno così Non avrebbe il minimo senso Anche perché Qui vedete che Ci sono i personaggi I vari screen Visti dai vari trailer Quindi non può essere Che verrà presentato così Ogni personaggio Avrà le sue trasformazioni All'interno Del personaggio stesso Quindi nascoste Come la serie Butoko Tenkaichi Ma questo roster Serve semplicemente Al trailer Cioè serve a voi A farvi vedere Che ci saranno Almeno Da questa schermata 164 personaggi Perché infatti Gli slot Sono 164 Comprese chiaramente Le trasformazioni Ragazzi Perché come Butoko Tenkaichi 3 C'erano 161 personaggi Se non erro Con le trasformazioni Comprese Che però Non verranno Messe così Ragazzi Non verranno Messe così A cazzo di cane Tutti separati Vegeta qua Vegeta qui Vegeta sotto Sopra Non ha senso ragazzi Sarebbe veramente Molto confuso Questa Questa è semplicemente Una tabella Che pian piano Secondo me Verrà completata Con Il mostrare Poi gli altri trailer Pian piano Quando mostrano Gli altri trailer Questa tabella Verrà completata E probabilmente Ci sveleranno Tutti i personaggi Tutti i 164 Personaggi Iniziali ragazzi Iniziali Perché poi chiaramente Dobbiamo accettare Il fatto Che Di DLC Arriveranno Ragazzi Su questo E non ci possiamo Fare nulla Questa è la lista Di personaggi Confermati Finora Abbiamo Goku Z All'inizio Goku a metà Goku a metà Super Saiyan Goku alla fine Goku alla fine Super Saiyan Goku alla fine Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Goku super Goku super Super Saiyan Goku super Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Vegeta Z Scouter Vegeta Shimmia Vegeta Z All'inizio Super Saiyan Super Vegeta Vegeta a fine Di Z Vegeta Z Fine Super Saiyan Super Saiyan 2 Majin Vegeta Vegeta Super E Super Saiyan God Poi ci sarà Piccolo Krillin Yamcha Tensina Trunks Super Saiyan Trunks del futuro Super Saiyan Freezer Di Super Cell Forma perfetta Majin Boomer Sestan Android Nome 17 Di Super Android 18 Broly Broly Super Saiyan Gire E Bergamo Quindi però ragazzi Questi sono i 40 Personaggi Confermati Su 164 Sempre con Trasformazioni Comprese Ragazzi Comunque Pensate al fatto Che Lanciare un gioco Con 164 Personaggi Non è poco Non è poco Ragazzi 164 Personaggi Sono tanti Cioè Ma vi rendete conto Di quanti cazzo Di slot Ci sono qua Sono tanti Da riempire E si E si Molti E Budokai Tenkai 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 4 Hanno confermato E hanno confermato Che il nome Sparking Zero L'hanno messo Perché Dovevano Chiaramente Dare un nome In tutto il mondo Non ha senso Chiamare un gioco In due modi Come hanno fatto Tanti anni fa Chiaramente Adesso Si è creata Confusione Però Come avete potuto Notare Scrivono Sul titolo Che questo Che questa Insomma È la serie Budokai Tenkai Eccola lì Vedete il titolo Quindi Non possiamo Non possiamo Confonderci Purtroppo Non c'è ancora Una data E Questo mi lascia Molto perplesso Ragazzi Speriamo Di non dover Aspettare Il 2025 Ma siamo ancora Agli inizi Del 2024 Quindi Oddio C'è tempo Ragazzi C'è tempo Per svelare La data Dai Potrebbe arrivare Per ottobre Novembre Magari Insieme a Dragon Ball Diamond Dai Secondo me Sarà un bel titolo Va sicuramente Sistemato in alcuni punti Altri invece Vanno testati con mano Ragazzi Il gameplay va testato Perché per quanto Ad occhio Così magari Un'idea possiamo farcela Ma Bisogna Provarlo con mano Perché magari Guardandolo Qualcuno potrebbe Vederlo un po' Legnoso Lento Macchinoso Ma a me non mi è sembrato Mi è sembrato molto fluido Molto veloce Però Il pad Qua ci vuole il pad Alla mano Rispetto Ad altri giochi Dove magari Già ad occhio Ti rendi un po' Conto Qui bisogna provare Con i tasti Bisogna premere Bisogna provarlo In prima persona Io resto ottimista Mi sento di Insomma di restare ottimista Questo trailer È molto 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 figo Hanno dimostrato Hanno dimostrato Insomma di voler Riportare Diverse caratteristiche Della serie Tenkachi Ho visto Uno slot Con tanti personaggi Perché ce ne sono tanti Ragazzi 164 Sono tanti Per il lancio Sono tanti Perché ricordatevi Non siamo più Nel 2005 2007 Dove Quando lanciavano Un gioco Poi altro Non si poteva aggiungere Qui chiaramente Qualcos'altro Verrà aggiunto Ma partiamo Ragazzi Con 164 Personaggi Tra cui Spero anche Ovviamente Quelli di GT Ma mi sembra Abbastanza ovvio Il dubbio In realtà Ce l'ho Sui personaggi Della prima serie Di Dragon Ball E lì forse Secondo me Potrebbe esserci Qualche problema Ma ovviamente Non lo posso sapere Ragazzi Lo scopriremo Staremo a vedere Però Resto comunque positivo Mi è piaciuto Quello visto finora Non abbiamo visto Moltissimo Ci vuole qualcosa Sicuramente Di più approfondito Ma per ora I trailer Sono belli Gasano Graficamente Non sono male Hanno qualche piccola Sbavatura Ma il gioco è sviluppo Devono migliorarlo Sistemarlo Ma c'è tempo Ragazzi C'è tempo Diamogli tempo E alla fine Probabilmente Ci daranno Un risultato Molto soddisfacente Quindi detto questo Ragazzi Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti